Quando ero bambino, credevo di parlare con il demodio, così mi hanno chiuso 40 anni del giorno di notte. Mi scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se trovo ancora una menzione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte, come un tasto, un accordo di sonato, di un'orchestra più privata. Di giorno e notte si assomiglia, nella propria luce che trattisce negli occhi. Me la faccio un po' sotto perché ho paura, che nella società dei sani siamo sempre stati spazzatori. Forse ripiscio il segno, malattia mentale e non esiste cura. Una rosa per il tuo lacrima da consolare, e una rosa per si perdere il mare. Ti regalano una rosa, una rosa pianta come forse la risposta. Una rosa pianta che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronasi che non tornano alla base. Sono dei compatti spetti ad asciugare il sole. I matti sono apostoli di un Dio che non mi vuole. Mi fanno con la nera, con tonalità e oro. La mia patologia è che sono rimasto solo. Avanti il leggo, per le scopie, usurate le rispande. Guardate tra me e voi, chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto. Ritaggiamo un altro, che fosse solo il nostro. Ricordi qualche stanno in cui ci sentivamo vivi. Non come le cartelle cliniche, che vada negli altivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare. E' il tuo lacrima, regato a venire il nostro cuore. Nonostante tutto, non ti ho scritto ancora. E se chiudo gli occhi, sento la tua mano che mi sfiora. Di regalare una rosa, una rosa rossa per diventare più cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E' una rosa per poterti andare. Di regalare una rosa, una rosa bianca come forse la mia scorta. Una rosa bianca che ti ferma per dimenticare. O che piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Marcherina, sono vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio con sta leggera, adesso devo andare. Per buona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.